Domani, vi facciamo una sorpresa, da 9 al 16 di giugno, ma li trovate domani, troverete, avremo 80.000 posti nuovi. Ulteriori posti disponibili per i cittadini dai 40 anni in su che non sono ancora riusciti a prenotare la vaccinazione, senza distinzione di classe ed età, che vanno ad aggiungersi ai 2.000 ancora a disposizione in queste ore. Al momento il 78% degli over 60, il 65% degli oltre 50 anni e il 41% degli over 40 ha ricevuto una dose o è in attesa di farlo. L'appello è quindi quello di fissare la prima data utile a disposizione. Se non vediamo, ne parlavamo anche stamattina all'assessore, posti occupati, noi apriamo, apriamo ulteriormente, vacciniamo tutti gli altri, il resto della popolazione che ha diritto di essere vaccinata. Giornate di vaccinazioni per i cittadini dai 16 ai 40 anni, sempre attraverso prenotazione sul portale. Intanto la regione sta affrontando parallelamente un'altra questione in vista dell'estate. L'assessore sta tentando di chiudere anche il tema, che so, dei Grest, i centri estivi, di vaccinare gli operatori. Al via anche le vaccinazioni nelle aziende. Sono partiti anche quegli aziendali che vanno per classi di età, non per l'azienda e hanno già 4.000 prenotati. Intanto a breve dovrebbe arrivare una circolare della dottoressa Russo sui richiami. Stabilisce che l'ultima settimana del richiamo, la famosa sesta settimana, per comprovati motivi, può essere anticipata fino a 35 giorni, cioè i 42 possono diventare 35, impegni di lavoro, uno ha già fissato le vacanze. E a proposito di stagione estiva, nel pomeriggio riunione a livello nazionale per affrontare il tema delle dosi ai turisti con la proposta della regione Veneto. Noi vogliamo fare le seconde dosi ai turisti non veneti. Sì, italiani. A dire la verità, io ho anche detto, anche gli stranieri se vogliono gli troviamo una soluzione. E anche il Veneto guarda con attenzione alle decisioni della cabina di regia sul fronte riapertura e coprifuoco. Ho l'impressione che non sia l'alta stagione che ci preoccuperà, cioè il luglio, definiamola alta, è luglio-agosto, no? Ma che la vera perdita, se mai ce l'avremmo, sia nella fase iniziale della stagione estiva. Grazie.